Giovedì 9 febbraio, Santa Polonia. È il quarantesimo giorno dall'inizio dell'anno. Ne mancano 325 al termine. Il sole sorge alle 7.21 e tramonta alle 17.29. La luna si leva alle 16.01 e tramonta alle 5.59. Il maggior consiglio di Venezia autorizza la costruzione di un ospizio per marinai poveri intitolato Ammesser Gesù Cristo, dove dovranno essere accolti quei marinai benemeriti che, avendo consumata la loro età in quell'impiego pericoloso, non sono più in condizione di servire né loro avanza di che sostentare la propria vita. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto. In pianura localmente piogge a tratti. Temperature sulla pianura in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno. Sui monti in calo. Ancora Bora in pianura ma in attenuazione. Grazie a tutti.